abbiamo finito adesso un allenamento speciale trail qui al parco del ticino abbiamo fatto otto chilometri io e giux dopo gli otto chilometri dieci allunghi qui sul su questi bellissimi sentieri siamo a ramo delizia ponte vecchio un luogo bellissimo dove correre e adesso andiamo andiamo fare defaticamento preparazione per il defaticamento defaticamento in corso